Nessun responsabile per la morte di Lorenzo Santini a causare il decesso mentre era in piscina sarebbe stato un malore. L'inchiesta sulla morte del 49enne Aretino, recuperato esanime nell'impianto del centro sportivo del Pantano, è stata infatti archiviata. Il GIP Stefano Cascone ha accolto la richiesta della PM Francesca Eva. Non ci sarà dunque nessun'altra perizia, come invece chiesto dai familiari della vittima, se non all'autopsia che dispose il magistrato. I primi ad accorrere sul posto furono i sanitari dell'emergenza urgenza. Per estrarre l'uomo dall'acqua fu però necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Quattro pompieri che si tuffarono in vasca per recuperare il 49enne e altri due li aiutarono a portare il corpo a bordo vasca. Inutili a quel punto i soccorsi, i sanitari poterono solo constatare il decesso. In seguito alla tragedia, quattro persone sono state indagate, il titolare della struttura ed altri tre collaboratori. Secondo l'equipe di medicina legale dell'Università di Siena, a stroncare l'uomo sarebbe stato un infarto fulminante che l'avrebbe colpito mentre stava nuotando. A nulla dunque sarebbero valsi i soccorsi qualora fossero arrivati in tempo. I familiari dell'uomo assistiti dal legale Luca Fanfani avevano chiesto ulteriori accertamenti, ma la vicenda penale adesso è stata chiusa. Nei prossimi mesi si aprirà quella civile. Grazie. 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 Grazie.